Domenica 29 marzo prossimo si voterà il referendum popolare confermativo sulla legge per modificare gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione italiana in materia di riduzione del numero dei parlamentari italiani. Stavolta a votare a Favara dovranno essere pure i cittadini ex-agrigentini di Favara ovest diventati favaresi dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale dello scorso 20 dicembre 2019 della legge regionale che ridefiniva i confini territoriali tra i comuni di Favara, Agrigento ed Aragona. Gran lavoro quindi per l'ufficio anagrafe del comune di Favara che deve velocemente lavorare per reiscrivere nei registri cittadini di Favara i nuovi residenti. E allora la sindaca Alba con propria ordinanza numero 16 del 5 febbraio 2020 ha disposto la chiusura al pubblico dell'ufficio anagrafe del comune per quattro giorni lavorativi dal 6 all'11 febbraio 2020 proprio per consentire all'ufficio di assicurare tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione dei cittadini attualmente residenti ed agrigento che in seguito all'avvenuta rettifica dei confini devono essere iscritti all'anagrafe del comune di Favara entro i termini previsti per ottemperare al loro diritto di voto in occasione del prossimo referendum fissato proprio per il 29 marzo 2020.